Raghi, questo video non è collegato alla scuola ma stavolta ho deciso di farla davvero grossa, ho deciso di passare 100 giorni su Brookhaven Non 100 giorni semplici perché ho deciso di startare anche qui da zero, inizieremo distruggendo casa nostra Infatti le sto per dare fuoco Ragazzi ecco che ho iniziato a prendere fuoco a casa mia, è orribile, ma non ha solo iniziato a prendere fuoco a casa mia, pure i miei vestiti Infatti ho questa roba qui addosso, andiamocene prima che prendiamo fuoco anche noi, oh mio Dio sta prendendo fuoco proprio tutta Guarda la mia camera da letto, mi dispiace casetta, mi dispiace tanto, mi ha usato, ti è voluto bene, sarei carina E adesso inizieremo una nuova vita da zero, e per prima cosa visto che non ho soldi andrò a cercarmi un lavoro E dove andrò a cercarlo se non al primo bar che mi capita a tiro qui vicino, andiamo a vedere, vediamo se c'è qualcuno Buongiorno, buongiorno, salve, lei, lei lavora qua per caso? Cioè lei è il titolare, vorrei parlare col manager Sì sì, sono io il manager, dimmi tutto, salve signor manager, allora praticamente mi servirebbe un lavoro, un lavoro ben pagato Non regalo cibo qui, no no no, per carità, niente cibo, mi serve solo un lavoro, mi servono dei soldi E una senza tetto? Eh sì, mi è andata a fuoco la casa, i vestiti, i documenti, tutto, guardi, una tragedia, una strage Per questo che mi serve un lavoro, può fare qualcosa, la prego? Guarda, solo perché sono disperato per i soldi Ah, ok, quindi mi sottopagherà, immagino, mi pagherà tipo un euro ogni otto ore Ma, oddio, questo non mi vuole prendere al lavoro, tutto ok? Che c'è? Ma, ma, cosa? Non pensare che tu puoi lavorare qui con quei vestiti? Intende questi? Eh, no, no, non si preoccupi Mi fare scappare la clientela Eh, lo so, signore, ma se non ho altri vestiti, cosa devo fare? Io ho solo questi, mi hanno rubato, cioè, mi è andato a fuoco tutto Eh, senti, senti, ti do la divisa io, davvero? Sì, che figo ci dà la divisa lui, perfetto, perfetto, grazie, sono grata Vai a guardarti che mi scoccia proprio vederti, cambiati Ok, sì, sì, sto andando a cambiarmi, sto andando a cambiarmi, grazie per la divisa, mi raccomando Ok, dove mi posso cambiare? Qui, qui, dentro, ok, c'è il bagno Eh, vabbè, mi cambio Wow, che figurino, guardate con che stile ci stiamo andando a questo bar Secondo me faremo stragi di clienti qui, eh Ehi, capo, siamo pronti qui, eh Qui si lavora, mica, si gioca, eh Oh, finalmente non sembro una barbona Guarda, c'è un cliente, su, vuoi a servire? Sì, signor, sì, capitano Buongiorno, signorina, posso prendere la sua ordinazione? Qualunque cosa desideri Salve, vorrei un cappuccino con un cornetto Arriva subito da lei, cappuccino e cornetto Allora, devo sapere che cosa fare Cappuccino, il cappuccino è questo qui Cavolo, abbiamo un waffle o una ciambella? C'è nessun cornetto Guardi, avevamo solo la ciambella e il cappuccino Quindi è un dolore, però, vabbè, spero le piaccia Insomma, cioè, ci saranno altre cose peggiori nella vita Va benissimo, non si preoccupi Perfetto, grazie mille Può pagare la cassa quando vuole Ehm, chissà che cosa ne pensi al capo Capo? Capo come sono andata? Ho fatto sfaville? Sono andata benissimo? Bene, bene Allora sarà un lavoro con i fiocchi il mio capo Sì, ma adesso puoi andare Andare dove? In che senso? A fine settimana ti pagherò Posso dove dormire? Senta capo, non è che posso... Ehm, i tuoi turni sono piccoli Ok, ma non è che potrei dormire qua dietro? Perché non ho una casa al momento Quindi al massimo dormo tipo dietro l'angolo Cosa? Sarebbe una brutta pubblicità Nel bagno del locale non disturbo nessuno Mi metto qua sotto, va bene? Ehm, giuro che non disturberà nessuno Proprio una mosca Ehm, va bene nel bagno, ma non fare casini Ok, signor sì, signore Ehm, vado nel bagno allora Vabbè, questa sarà la mia nuova cameretta Oh, buonanotte ragazzi Buonanotte Ah, capo, sembra stia andando bene questa giornata Che dice? Poi abbiamo avuto un sacco di clienti Come va? Come va? Mi dica Ho lavorato sodissimo questa settimana È stato... Guardi, ho studiato 20 camici Altro che 7 Sì, sì, ti sei impegnata Grazie, grazie, modesta Lo so, sembra che si impegna molto Per quello che vuole I soldi Ehm, quindi... Infatti vieni da questa parte È già fine settimana? Sarà mica arrivato il momento della paga? Sì, sono qui Oh, oh, sono soldi questi Sono soldi La prego, venite Oh, sì, miei soldi I miei primi guadagni Ragazzi, non ci credo Non ci credo Li ho fatti Ce l'ho fatta E adesso ho abbastanza soldi Per permettermi di dormire in un posto vero Per tutto il mese Grazie, capo La ringrazio tantissimo Prometto che mi impegnerò sempre nel lavoro Scappo, corro a ordinare la camera dell'hotel qua vicino Non urlare Ok, ok, scusi Grazie Oh, mio Dio, ragazzi I primi soldi Madonna, piove pure però Che sfiga Vediamo se riesco a prendere la stanza Prima che devo dormire fuori Salve, signorina Buongiorno Lei lavora qua? Immagino di sì Buongiorno, sì Casa mia è stata distrutta da un fuoco Un incendio Che non ho appiccato io Mi servirebbe quindi una stanza dove stare Per fin quando non trovo un'altra casa Posso oppure c'è una stanza libera Un posto dove posso andare Insomma, mi dica lei Sì, sì, certo Venga con me Ok, sì, sì La seguo Ok, posso prenderla? Oh Oh, grazie mille signora Adesso posso davvero godermi casa mia Innanzitutto cambiamo questo colore qua Perché mica mi piace, sai Oh, sì Molto meglio, ragazzi Adesso camera mia è rossa Proprio come il mio colore preferito E ci siamo Ah, posso dormire Ma pure il computer Posso giocare a Roblox Per quello che voglio Mi rompendo la casa E adesso però mica è finita Quindi nei prossimi giorni Devo prendermi anche una macchina E vedere se riesco a lavorare di più E a fare più soldi Giornata di lavoro, ragazzi Quindi bisogna sbrigarsi Perché dobbiamo fare i soldini Per avere la nostra casa migliore In questi cento giorni Quindi Capo, dov'è? Capo, capo Capo, buongiorno Come stiamo? Jenny, ti aspettavo una buona notizia Una buona notizia Mi aumenta la paga Grandioso, capo No, sto scherzando Qual è la buona notizia? Sentiamo Cosa è successo nel locale Oggi Beh, sì Abbandono Cosa abbandono? Abbandono Ma stiamo scherzando Lei è l'unica persona che conosco E lei vuole abbandonare adesso Ma è pazzo No, no È l'unico lavoro che ho poi Quindi il locale va a te Cosa? Cosa? Come scusi Il locale va a me? Tieni il contratto Il locale va a me? Il contratto Oh mio Dio Ma lei Ma perché sta abbandonando tutto? Ma che cosa è successo? Ho altri ristoranti di cui occuparmi E sei l'unica Wow Quindi davvero lascia tutto a me Quindi te lo meriti Non so che dire Non so che dire Io la ringrazio così tanto Ok Wow, davvero Adesso sono piena di soldi ragazzi Sono piena di soldi Cosa me ne faccio? Non so come ringraziarla E terrò alto L'onore di questo ristorante Gli lo prometto E sa che cosa? Ne approfitto un attimo Per andare a comprare Mi casa mia Posso non stare più Nel motel ragazzi Finalmente Non ci credo Che mi ha lasciato Tutto il ristorante E adesso Mi serve Un'agenzia immobiliare Che mi aiuti A vedere le case Raghi Mi sono cambiata per bene E adesso Andiamo Notato che c'è qualcuno Qua dentro Quindi Beh vado a chiedere A questa persona Penso che sia qui La gioma Si tratta di soldi Salve Salve Buongiorno Ehm Mi servirebbe dell'aiuto Salve buongiorno Certo è nel posto giusto Ma non sa neanche cosa mi serve Ma vabbè Comunque Mi serve un aiuto Perché sto cercando una casa E vorrei Comprare appunto Una casa Quindi Può farmi vedere Qualche casa Può aiutarmi Non lo so Consigliarmi qualche casa Figa Che Ho abbastanza soldi Mi hanno lasciato un intero ristorante Qualunque cosa vuole Qualunque cosa voglio Oh che carino Mi segua Assolutamente sì Vengo con lei immediatamente Dove andiamo? Beh qui Ah qua Dice Sembra un po' bruttino Cioè si vede la città Però è anche troppo al centro Quindi magari c'è un po' di rumore Potrebbe esserci la sua futura casa Eh sì Ci ho pensato Oppure Oppure altre soluzioni Lo dico spesso Però Lei ha un bello stile Oppure È la nostra casa Sei bellissima Penso di aver trovato Il mio futuro ragazzo E comunque Potevi dirmi Sei molto simpatica Invece che sei bellissima Però va bene Accetto il complimento Grazie lo stesso E beh Sei carino Sei gentile E cavolo Sei pure ricco Io direi che Sì Possiamo provare Posso provare a vivere in casa tua Sposiamoci Eh addirittura Sposiamoci Prima conviviamo Ok Poi vediamo Entriamo in casa intanto Raghi Bene sì Siamo arrivati alla fine di questi 100 giorni Ho lavorato un sacco Mi sono premiata con le case Ho trovato un fidanzato Ok Questo qui E si chiama Anthony Chi l'avrebbe mai detto Eh ma voglio farvi vedere Un'ultima cosa A parte la casa Lasciamolo guardare la tv Vi voglio far vedere Che ho comprato la mia macchina Quindi ho davvero tutto Quello che desidero Guardate Un po' Eccola qui E questa rossa E Antonia Quella nera Io quella rossa Quindi Direi che siamo arrivati alla fine L'unica cosa che mi manca È prendere un cane E mi sa che la prossima volta È proprio quello che faccio Prendere un cane Se vi è piaciuto il video Mettete like E ci vediamo Ai prossimi 100 giorni